Musica Leggiamo insieme la parola di Dio nel Vangelo di Marco al capitolo 4 iniziando dal verso 35. In quello stesso giorno alla sera Gesù disse loro passiamo all'altra riva, i discepoli congedata la folla lo presero così com'era nella barca, c'erano delle altre barche con lui ed ecco levarsi una grande bufera di vento che gettava le onde nella barca, tanto che questa già si riempiva. Egli stava dormendo sul guanciale a poppa, i discepoli lo svegliarono e gli dissero maestro non ti importa che noi moriamo? Egli svegliato si sgridò il vento e disse al mare taci calmati, il vento cessò e si fece gran bonaccia e gli disse loro perché siete così paurosi, non avete ancora fede? Ed essi furono presi da gran timore e si dicevano gli uni agli altri, chi è dunque costui al quale persino il vento e il mare ubbidiscono? Un giorno come gli altri, ma un giorno come gli altri che viene segnato da un'esperienza forte, da un'esperienza particolare che i discepoli vivono insieme a Gesù. Abbiamo visto che questa giornata potremmo dire inizia bene, ma durante il corso di questa giornata avviene qualcosa che in qualche modo sconvolge la serenità dei discepoli. E' interessante l'espressione che abbiamo letto insieme verso la fine quando i discepoli, dopo aver assistito a ciò che era successo, dissero l'uno all'altro chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Certamente il termine costui non è un termine dispregiativo, ma è un termine per dire ma insomma chi è quest'uomo? Chi è costui? Chi è questa persona? Indubbiamente loro conoscevano chi egli era, ma sembra che l'esperienza che hanno vissuto porta una certa incredulità, un certo stupore, una certa sorpresa. Come per dire abbiamo conosciuto qualcosa, ma oggi questa persona si è rivelata in un modo straordinario e stiamo conoscendo qualcosa che forse non avevamo realizzato fino a questo momento. Vorrei con voi, cari amici che mi state ascoltando, cercare di rispondere proprio a questa domanda. Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Diremmo anzitutto costui è colui che ha deciso di intraprendere un viaggio con noi, è colui che ci accompagna nel viaggio. Infatti fu Gesù che disse ai discepoli passiamo all'altra riva, quindi diremmo che è Gesù che prende l'iniziativa e si propone, ci propone un viaggio insieme a lui. La vita che noi tutti viviamo è un po' come un viaggio, un viaggio su un mare, un viaggio in una barca, da una riva all'altra riva. Ma è bello sapere che in questo viaggio della tua vita, della mia vita, Gesù si propone come nostro compagno di viaggio. Gesù ci dice passiamo insieme all'altra riva, andiamo insieme in questo viaggio della vita. Gesù è venuto su questa terra molti anni fa proprio per stare insieme alla sua creatura. Egli è venuto però, lo sappiamo, per salvare i perduti, per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Chi è costui? È colui che è venuto fino a noi, è colui che ha simpatizzato con noi ed è colui che vuole con noi affrontare il viaggio della vita. Ma potremmo dire anche che egli è colui che nella tempesta non ci lascia. Notate che durante proprio questo cammino, a un certo punto, cominciò la tempesta. Non era una cosa nuova sul mare di Galilea, lago di Genezareth. Non era una cosa nuova che improvvisamente dalla calma si passava alla tempesta. E così avvenne una tempesta che cominciò a travolgere questa piccola imbarcazione dove c'erano i discepoli e c'era anche Gesù. Dice la Bibbia che c'erano delle altre barche, ma in questa barca in particolare c'era anche il Signore Gesù. E quindi chi è costui? È colui che è con noi nella tempesta. Chiaramente Gesù non scappa e Gesù non si esime dal vivere l'esperienza che questi discepoli stanno vivendo. Dunque alla domanda chi è costui possiamo rispondere insieme? È colui che sta con noi nella tempesta. La Bibbia dice nell'Antico Testamento, Dio dice al suo popolo, agli uomini, Quando tu sarai nelle acque, camminerai nelle acque, io sarò con te. E quando attraverserai il fuoco, la fiamma, la fiamma non ti consumerà, non ti brucerà. Siamo grati al Signore perché nella tempesta il Signore non ci lascia. Stiamo vivendo giorni difficili, cari amici, giorni di tempesta, Ma coloro che hanno ricevuto Gesù, hanno accolto Gesù nella propria barca, non sono da soli. Gesù è insieme a loro. Sì c'è il vento, sì ci sono le onde che in qualche modo cercano di sommergere quell'imbarcazione, ma lì c'è Gesù e quelle onde non potranno fare affondare quella barca. Chi è? Costui. Egli è colui anche che si leva sulla tempesta. Potremmo dire costui è colui che ha il potere sulla tempesta, è colui che può mettere calma in questo momento di subbuglio. Certamente Gesù era lì insieme a loro, ma Gesù desiderò di essere chiamato. Vedete stava dormendo, dice la scrittura, stava dormendo sul guanciale a poppa e i discepoli chiaramente costernati dall'evento che stavano vivendo svegliarono Gesù e gli dissero Maestro non ti importa che noi moriamo? Gesù stava dormendo. Alcuni dicono che forse egli stava fingendo di dormire, ma la Bibbia dice che stava dormendo, stava riposando, Gesù è colui che vuole che i suoi, che gli uomini nel momento del bisogno lo sveglino. Cioè nel momento del bisogno lo chiamino, gridano a lui per dire Signore noi abbiamo bisogno di te. E io voglio dirvi che chiunque invoca il Signore sarà salvato. Chiunque invoca Dio avrà il favore di Dio. In questa tempesta che stiamo vivendo, e forse la tempesta non è solo intorno a noi, spesso la tempesta è dentro di noi, nel nostro cuore, nella nostra vita, nella nostra mente, ma c'è una realtà. Noi possiamo invocare il Signore, possiamo chiamare Gesù. E avete notato che quando Gesù viene chiamato, si desta. Chi è costui? È colui che si leva sulla tempesta e sgrida il vento e sgrida il mare. Quindi è colui che può mettere calma, è colui che può mettere a tacere il vento, il mare. Noi non possiamo farlo. Avete notato che i discepoli si imbarcano insieme a Gesù? Fino a un certo punto riescono a gestire la situazione, ma da un certo punto in poi non riescono più a gestirla. Hanno bisogno di qualcuno che possa aiutarli. Insomma, hanno bisogno di Gesù. Ed ecco perché lo invocano. E Gesù si leva e mette a tacere la tempesta. Egli sgrida la tempesta. E abbiamo letto insieme che Egli sgridò il vento e disse al mare Taci, calmati. Il vento cessò e si fece grande bonaccia. Anche il vento, anche il mare ascoltano il Signore Gesù. È colui quindi che ha il potere di calmare la tempesta. Ma voglio anche dirvi, infine, che costui è colui che si aspetta che noi possiamo confidare, avere fiducia in Lui. Infatti quando Gesù si leva sulla tempesta e sgrida il vento e il mare, dirà anche ai discepoli Perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? Come per dire, come mai? Non avete avuto ancora fede? Eppure vi ho dimostrato tante volte di essere l'Onnipotente. Vi ho dimostrato tante volte di essere in grado di fare le cose che voi non potete fare. Come mai? Non avete ancora fede? Una tiratina di orecchie, credo anche a noi e anche all'umanità in genere. Dio vuole che noi abbiamo fiducia in Lui. E la parola del Signore dice Abbiate fede in Dio. Gesù abbia a dire questo E abbiate fede anche in me. È in questo momento difficile, di prova, di tempesta. Noi vogliamo avere fede nel Signore, in colui che può fare ciò che noi non possiamo fare. Chi è costui? È colui che in questi giorni può intervenire nella tua vita e può mettere pace nel tuo cuore. Sì, Gesù può farlo. E allora se tu lo invochi con tutto il cuore, Egli interverrà e metterà bonaccia, calma, serenità nel tuo cuore. E noi preghiamo che questo avvenga, che Dio possa benedirti in questo momento di bisogno e possa mettere pace nel tuo cuore. A presto. 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 A presto.